Settimana è stata molto curata, chiaramente l'umore non è dei migliori visto la sconfitta, i ragazzi stanno bene, quindi mi riservo di valutare tra oggi e domani. Possiamo fare entrambe le cose, quindi non c'è un motivo che mi fa propendere per uno o per l'altro sistema. Credo che in una squadra di calcio si debba parlare, c'è il re e comanda qui, quando si parla ognuno con la giusta educazione e giusto rispetto può dire quello che pensa. Io ho detto la mia chiaramente, quello che pensavo, come ho sempre fatto, perché alcune cose voi le avete viste lunedì, ma io con la squadra parlo da luglio. Se vogliamo dare un risalto a una chiacchierata più lunga della sconfitta lo possiamo fare, ci mancherebbe altro, ma quando abbiamo vinto abbiamo parlato. Anzi, si parla molto di più dopo le vittorie, dopo le sconfitte. L'abbiamo detto tempo fa, io sono in discussione esattamente come tutti gli allenatori di calcio, se fai bene rimani, se non fai bene te ne vai, ma abbiamo detto forse un mese fa. Le case si fanno dalle fondamenta, non si fanno dal tetto, per cui le case si costruiscono dalle fondamenta, i campionati si costruiscono con la salvezza. Dopo la salvezza si pensa a qualcos'altro, ma mi sembra una cosa molto serena e tranquilla, non abbiamo mai litigato il Presidente per questa cosa. Mi gioco la salvezza in questo momento perché penso sia il primo step da raggiungere, inoltre raggiunta la salvezza pensiamo a qualcos'altro, ma non sto dicendo niente di particolare secondo me. È chiaro sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno, perché è una squadra che ha preso pochi gol, spesso vince 1-0, 2-1, una squadra molto solida che concede poco. Ha tante armi, da calci piazzati, ha tantissime soluzioni per poter far male all'avversario e noi abbiamo delle qualità, abbiamo tanta qualità in mezzo al campo. L'elemento sulla carta ha qualcosa in più di noi, però chiaramente abbiamo le nostre armi e vediamo domande se riusciremo a batterle. Io ho visto un po' di partite e hanno veramente tutte le caratteristiche, sono bravi quando difendono bassi e ripartono, quando decidono di attaccare un po' più alti hanno tanti giocatori con tante caratteristiche e possono fare quello che vogliono. Quindi non so come interpreta Inzaghi la partita. È chiaro che dovremmo essere bravi quando verremo attaccati ad uscire con qualità o andare sulle seconde palle. Insomma, dobbiamo interpretare velocemente quello che l'avversario ci proporrà e sempre questa è la soluzione ai problemi che gli altri poi ci vengono a creare.